Le piogge monsoniche puntuali in questa saggione mettono in ginocchio l'arcipelago delle Filippine. Si parla di 68 morti e 270.000 sfollati in tutto il nord del paese, ma sono cifre per difetto. Solo a Manila, nelle ultime 24 ore, allagamenti e inondazioni hanno bloccato il 50% della capitale, dal centro fino ai distretti dove migliaia di persone vive nelle baracche che durante le piogge diventano palafitte. Nel distretto di Tondo bastano tre ore di pioggia per sommergere case, allagare strade e chiesa parrocchiale retta da religiosi canossiani. Tra loro vive l'italiano padre Carlo Bittante, da 26 anni missionario nelle Filippine, da sei anni parroco proprio a Tondo della comunità di San Paolo Apostolo. Quello che abbiamo è piccolo e spesso adesso dal fine maggio a dicembre è quasi sempre allagato, con vino e un po' di pioggia, perché siamo troppo bassi rispetto alla strada. Tondo, Tristano, e fumanti di rifiuti di cui vive la maggior parte dei 30.000 baraccati. La gente viene a Tondo per vedere la smocchimante, la miseria, ma forse un giorno verranno a vedere anche un qualcosa di cui siamo orgogliosi. L'orgoglio di padre Carlo è in parte già realtà. Si tratta di un grande progetto iniziato nel 2007 per contribuire a migliorare la situazione della gente di Tondo che non ha altri punti di sano riferimento oltre alla comunità canossiana, suore, sacerdoti e volontari. È un progetto abbastanza complesso e anche ambizioso, possiamo dire. Siamo riusciti a fare questo centro giovanile che adesso comincia a funzionare con l'asilo, attività di ricupero, una piccola realtà di... anche dove li usiamo, per esempio il cover court, per le celebrazioni, eccetera. Adesso ci manca la parte della chiesa e la parte del verde.